La problematica ambientale più importante è sicuramente l'inquinamento derivante soprattutto dalle emissioni in atmosfera. La popolazione italiana ha una conoscenza storica relativamente all'utilizzo corretto delle risorse in maniera bio e relativo anche a ciò che veniva fatto dai nostri nonni e quindi è una cosa che abbiamo dentro di noi. In Italia è una tradizione. Per la rumba il tema energetico è di massimo interesse perché i data center stanno diventando una delle attività energevole. Uno dei motivi per cui siamo in questo sito è la presenza di un impianto idroelettrico che utilizza l'acqua del fiume Brembo per l'alimentazione del data center. Fiam è uno storico produttore di batterie ed accumulatori. Aruba ha collaborato con Fiam per ottenere una soluzione nell'ambito della continuità elettrica modulare e trasportabile. Questo data center è stato progettato da un team interno di Aruba. Ovviamente il risultato ottenuto con grandi performance dal punto di vista energetico per noi è motivo di massimo orgoglio. La cosa più importante che dovremmo fare è portare l'attenzione nelle nuove generazioni nei gesti quotidiani spiegando che ogni piccolo gesto o la chiusura di un rubinetto o lo spegnimento di una luce ha un effetto concreto sui temi energetici che si potranno poi ripercuotere il loro futuro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!